ottieni i lingotti nei luoghi indicati allora i luoghi indicati sarebbero tutti i posti indicati con nome sulla mappa ad esempio io adesso sono a rotaie rischiose potete trovare i lingotti nei registratori di cassa nei forzieri altrimenti potete andare come qua a rotaie rischiose nei cavò dell'ultima stagione li troverete aperti se entrate nel cavò troverete dei lingotti d'oro distruggeteli col piccone raccogliete lingotti d'oro in tutto dovete raccogliere 100 lingotti d'oro per completare l'incarico esamina un forziere dell'olimpo un forziere del mondo sotterraneo allora in tutto dovete esaminare un solo forziere potete atterare in questa posizione qui è un forziere un po' nascosto normalmente non troverete tanti avversari questo sarebbe il cosiddetto forziere apritelo e avete già completato l'incarico qua mi inserisco ancora una mappa con tutte le posizioni dei forzieri prova e accetta i briefing ombre allora i briefing ombre sarebbero queste valigie con monitor sarebbero degli incarichi che dovete completare in tutto dovete accettare tre incarichi non dovete neanche completarli qui mi inserisco ancora una mappa con tutti i briefing ombre che potete trovare scatta tre volte in dieci secondi sotto l'effetto dell'abilità scatto del mondo sotterraneo allora per completare l'incarico basta che andate dove trovate il fiume verde praticamente nella zona attorno al mondo sotterraneo entrate in acqua adesso schiacciate più volte il tasto per saltare come vedete state già scattando dopo tre volte che siete scattati avete completato l'incarico uso un banco motte dentro un bunker delle armi allora dovete attendere che abbia inizio la terza fase della tempesta una volta iniziata la terza fase proverete segnati sulla mappa i bunker contrassegnatevi il bunker più vicino a voi dirigetevi poi al bunker adesso basta che entrate nel bunker qui troverete il banco delle motte interagite col banco delle motte e avete completato l'incarico non serve neanche che modificate l'arma colpisce un avversario con l'attacco bomba impicchiata delle ali di Icaro allora le ali di Icaro potete acquistarle semplicemente da questo NPC così non dovete cercarle una volta acquistate le ali di Icaro cercatevi degli avversari non appena avrete degli avversari in vicinanza iniziate a volare una volta in aria sferateli l'attacco una volta che l'avete colpito avete già completato l'incarico danneggia gli avversari con la folgore di Zeus allora potete trovare la folgore naturalmente per terra nei forzieri normali ma soprattutto li trovate nei forzieri del mondo sotterraneo e in quelle dell'Olimpo qui vi inserisco ancora una mappa con tutti i forzieri adesso cercatevi un avversario usate la folgore di Zeus contro l'avversario una volta che gli avete procurato 200 di danni avete completato l'incarico sfida un boss dell'Olimpo presso un altare allora in tutto potete trovare 4 altari uno ad esempio lo troverete qui comunque vi inserisco ancora una mappa con tutte e quattro le posizioni dove trovate i boss dell'Olimpo allora per sfidare il boss basta che interagite con la sua statua e adesso avete già completato l'incarico ciao 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 ciao